nuova puntata di beccare la scoperta dei segreti della carne quest'oggi analizziamo uno dei tagli diciamo più diversificati nel bovino il muscolo però non dobbiamo confonderci le idee perché ci sono vari tagli anatomici che vengono classificati come muscolo in questo caso specifico abbiamo il muscolo della coscia ma il muscolo della coscia cosiddetto anche come campanello perché è attaccato alla parte proprio della polpa della coscia quindi alla parte nobile dei tagli della coscia e la sua forma anatomica il motivo per cui viene chiamato anche il campanello è che una volta disossato ha attaccato sopra la parte del tendine quindi gli da una forma di una specie di campanello si adatta per molteplici ricette e soprattutto se tagliato in maniera attenta e giustamente debitamente mondato risulta perfetto per arrosti e brasati